Ma Pirlo che giocatore, unico al mondo, ha fuori tempo massimo, guarda cosa facciamo Pirlo, guarda cosa fa, ha la lucidità di vedere Rossi in mezzo all'area, poi ci vuole la qualità anche... Poi tocca di sinistro, lui conclude di destro Rossi però tutti vanno a abbracciare Pirlo. 3 a 1, doppietta di Giuseppe Rossi, gran secondo tempo di Andrea Pirlo.